Siamo con Jefferson e Maina, due bomber che hanno veramente fatto una bellissima stagione quest'anno rispettivamente nel caccia 5 e nel caccia 11 di Latina. Chiediamo subito a Jefferson, dopo questa splendida stagione, quali saranno i tuoi programmi per il prossimo anno? A quello che so io, praticamente rimango qua, spero di fare tutta la stagione completa senza avere problemi e speriamo di fare meglio quest'anno di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Avete avuto parecchie difficoltà quest'anno, però alla fine una salvezza davvero sofferta e anche alla fine meritata, possiamo dire? Sì, alla fine non ho potuto godere di questa salvezza perché veramente abbiamo sofferto tutto l'anno, se tutti aspetti diciamo, però alla fine è andata bene e speriamo che quest'anno sarà molto meglio di quello che è passato. E a questo punto chiediamo anche a Lucas Maina, tu sei stato un trascinatore di questa fantastica stagione che abbiamo anche vissuto insieme, una grandissima promozione in A2 e a questo punto però il salto di categoria. Che cosa ti aspetti per il prossimo anno? Per il prossimo anno sapevo che la squadra si sta facendo piano piano perché alcuni giocatori forti dell'anno scorso che abbiamo vinto il campionato purtroppo sono andati via. Secondo quello che ho parlato con il presidente La Starza stanno nella ricerca di far ringiocare un po' la squadra quindi penso che ragazzi di qua di Latina e non so se verrà qualcuno da fuori, più Abelino, so che il resto io oppure non so se qualche altro giocatore che prima o poi si saprà, cercheremo di fare un campionato il più alto possibile.